Bene, ciao a tutti, bentornati in questo video special ragazzi dove parliamo dell'analisi ciclica e dell'analisi tecnica di Ethereum e Binance Coin L'ho dovuto fare a parte perché non c'era modo di farlo nel video di ieri ragazzi, la solita analisi ciclica nostra del lunedì perché c'era troppo da dire su Bitcoin semplicemente Ma andiamo a vedere queste due altcoin perché sono importanti, soprattutto BNB è importante ragazzi da un punto di vista ciclico Perché dobbiamo analizzare alcuni movimenti in quanto BNB anticipa le cross cicliche di Bitcoin Quindi mi interessa in questo momento andarla a guardare perché mi interessa capire se effettivamente riparte un ciclo mensile su Binance Coin Perché magari entro X giorni, un paio di giorni, due o tre giorni potrebbe risuccedere la stessa cosa anche su Bitcoin Ovviamente ragazzi tutte queste correlazioni sono essenzialmente delle cose che durano poco Quindi non è detto che questa anticipazione di Binance possa continuare tantissimo Altrimenti lo useremmo per fare un train system e saremmo miliardari e facciamo un Bancomat Ma non è così perché questo tipo di correlazioni durano pochi giorni, pochi settimane E da un po' che ce l'ha potrebbe ancora continuare ad averla perciò è interessante andarla a guardare È una correlazione comunque da un punto di vista ciclico quindi non di prezzo, non di indicatori particolari Quindi in realtà non è proprio difettata da un punto di vista statistico quindi potrebbe anche continuare per un po' di tempo Perciò è interessante, oggi vediamo Binance Coin, vediamo anche Ethereum da un punto di vista grafico per quello che sta accadendo Andiamo sui grafici Partiamo da Ethereum ragazzi, ancora una volta la prima cosa che facciamo andiamo a guardare l'RSI Così come quello di Bitcoin ragazzi l'RSI è assolutamente nella stessa identica condizione Cioè al di sopra della sua fascia intermedia che è più o meno 8,50 Va benissimo così quindi il mercato ci sta dicendo ho perso forza rispetto al trend precedente ma non del tutto Quindi in realtà da un punto di vista ciclico su Ethereum siamo ancora in una fase di trend rialzista Tra l'altro rispetto a Bitcoin Ethereum ha una volatilità inferiore ragazzi Che ci dimostra ancora di più quello che vi ho detto nel video di lunedì di questa settimana Cioè il fatto che la famosa candela di Big Up di Bitcoin sia stata un super fake Così come lo ha dimostrato per la candela del giorno successivo perché l'ha riportato dove era Infatti Ethereum l'ha accentuata di meno questa cosa Come vedete la resistenza a 330 non è stata rotta su Ethereum ragazzi Poi il mercato è ritornato giù a fare il pullback dei 2,80 Che era l'altra fascia e si è rimesso all'interno di questa fascia di oscillazione Quindi c'è rimesso dove doveva stare anche Bitcoin tra gli 11.007 e più o meno i 10.000 Insomma anche se l'estensione potrebbe essere più ampia Questo è fondamentale ragazzi è fondamentale capirlo anche dal punto di vista di Ethereum Su Ethereum stiamo seguendo però da un punto di vista di analisi ciclica Un'idea differente ragazzi cioè l'idea che ci siano dei cicli ternari Che compongono diciamo un sotto ciclo più ampio Insomma è complicato ragazzi vabbè io faccio la ciclica così Ve la rendo più semplice possibile Questo è semplicemente un ciclo ternario dovrebbe aver fatto il suo massimo qui Assolutamente sembrerebbe confermato questa fascia qui di prezzo Dopodiché cosa fa? E' iniziata la sua fase ciclica Quindi è vero che qui siamo nella parte centrale Ma se fosse così ragazzi la fase correttiva continuerebbe fino almeno al 17-15 luglio Quindi in sostanza cosa significa? Significa ragazzi che l'atteso chiusura ciclica di Bitcoin Che dovrebbe avvenire entro la decade di luglio Se guardiamo Ethereum ci dice attenzione è possibile ciclo ternario Possibile estensione anche fino al 15-16-17 di luglio Potrebbe anche essere che Bitcoin fa un minimo prima e poi Ethereum dopo Questo sì perché le altcoin in questo momento sono leggermente scorrelate Ethereum è quella più correlata a Bitcoin Le altre sono assolutamente più scorrelate Soprattutto alcune crypto come Ripple E altre insomma che seguono delle logiche diverse Addirittura Ripple ragazzi non è neanche in trend rialzista Da dicembre Mentre le altre altcoin quasi tutte Ripple non è neanche entrata in trend rialzista Pensate un po' Quindi c'è una sconnessione Effettivamente c'è E da un punto di vista però di analisi ciclica Se fosse così ragazzi dobbiamo stare attenti a una serie di valori Il primo valore di tutti è questo qui che su Ethereum è dipinto Ed è molto importante questa volta che è 280 Un rientro al di sotto della famosa resistenza 280 è negativo E' inutile che noi lo diciamo Quindi un rientro qui ragazzi è negativo Attenzione perché ancora una volta l'idea di fondo qual è? L'idea di fondo è che il mercato continui questa fase di oscillazione All'interno di questa fascia di prezzo tra 3,30 e 2,80 E anche se mi va a rompere i 2,80 qui vicino la cross ciclica Attenzione che qui di nuovo diventa un'occasione di fake breakout Quindi potrebbe effettivamente rientrare in questa fascia Al di sotto dei 2,80 Ma proprio per chiudere un ciclo e poi ripartire Quindi a quel punto questo rientro sotto i 2,80 Diciamo non avrebbe senso da un punto di vista di analisi tecnica Diverso invece ragazzi se effettivamente ci rientra subito Se ci rientra subito cioè in questa settimana In sostanza allora diventa un po' più complicato Attenzione perché il mercato se rientra subito così Probabilmente se ne va qui a ritestare 2,25 Anche in close di questo ciclo E non sarebbe un bene Non sarebbe un bene perché potrebbe indicare questo massimo Come un massimo anche per il prossimo ciclo Quindi magari andare a farci questo tipo di movimento Fino al famoso ciclo di agosto Che poi ragazzi è quello più complicato Ma lo vedremo nei mesi a venire Voi pensavate che le cose siano complicate in questa settimana E invece vi assicuro che saranno complicate di più ad agosto Va bene allora per quanto riguarda Ethereum E così magari non lo sappiamo ragazzi Ovviamente è sempre un'opinione Per quanto riguarda Ethereum c'è questo che vi ho detto Insomma è così Andiamo a vedere Binance che è quella che mi interessa Allora Binance ragazzi attenzione Perché mi serve capire quando chiude questo ciclo mensile Sembrerebbe nella giornata del 1 luglio Stia facendo questo minimo L'ha fatto E assolutamente Vi allargo la finestra Assolutamente un ciclo bellissimo Questo della close Su Binance In questa fascia Quindi intorno all'1 luglio Va bene anche se lo fa il 2 luglio Che è qui Sto registrando l'1 ragazzi questo video Quindi voi lo vedete il 2 Ma più o meno dovremmo starci Spero che non ci siano grandi cambiamenti Quindi se lo fa qui va bene anche Perché è un minimo ciclico Su una media mobile a 50 periodi Che nel caso specifico del Binance Coin È stata una media importante Anche nei giorni scorsi E anche nelle settimane scorse Addirittura anche mesi Perché guardate un po' qui Intanto questa media ci indica La natura del ciclo E la natura dell'oscillazione del trade Vi ricordate quando vi ho detto Binance sta salendo troppo velocemente Deve rientrare su una fase corretta Ed è quello che ha fatto ragazzi Vedete prima app Poi si è riavvicinato Secondo app Si ritorna Si riavvicina completamente Al ciclo della media mobile Anzi probabilmente Diciamo dovrebbe un po' starci un po' sotto Se così vogliamo dire Insomma di poco poco Per un po' di giorni Però questo diciamo Vedremo un po' quello che farà il mercato Però volevo farvi vedere Come effettivamente La media mobile a 50 periodi È stata anche un livello di supporto importante In alcuni momenti Particolarmente rilevanti per Binance Come ad esempio l'11 maggio In cui c'è stato poi questo forte up Di questo nuovo ciclo E poi tutti questi cicli Che vedete qui Vedete ragazzi Intorno alla fine di gennaio Di nuovo qui Cioè da quando Binance è entrata Nel trend del bull run Dal 30 di dicembre 31 di dicembre del 2018 Ha superato la media mobile a 50 periodi Non è mai più andata sotto Quindi vedete In questo momento Siamo di nuovo Allo stesso livello Sapete bene che Quattro Diciamo casi A livello statistico Sono praticamente niente Però in ogni caso Bisogna anche considerare Che se vuole mantenere Un trend di questa portata Effettivamente la media mobile a 50 periodi Risulta essere Un livello di supporto Cosa potrebbe effettivamente fare Binance Intanto Ci deve chiudere questo ciclo E quindi il fatto Che vada a toccare Una media mobile a 50 periodi In close ciclica È molto rilevante Perché assume Ancora di più Livello di supporto Perché è un supporto Sia da un punto di vista Di anesi tecnica Sia a livello temporale Perché ciclicamente Siamo alla scadenza Di un ciclo E quindi Potrebbe essere Molto rilevante Per esempio Per Binance Diciamo Un nuovo rimbalzo Quindi se farà Un nuovo rimbalzo Come facciamo a capire Se questo ciclo Verrà chiuso Basta farvi Questa trend line Se vediamo Che Binance Ci va in up Probabilmente Al di sopra Di questa trend line Riaffronta la resistenza A 35 36 dollari E se ci riporta Su Quindi qui Allora è partito Un nuovo ciclo Su Binance E di solito Anticipa Poco poco Bitcoin Quindi mi garba Ragazzi Il fatto che sia Già In una fase piccolina Una fase leggera Chiamiamolo a casi Di ripresa Dall'1 luglio Perché Se così fosse Vedete All'1 Ma anche il 2 Se lo fare All'aggiornata di martedì Se così fosse Mi anticipa un po' Bitcoin E va benissimo Perché Bitcoin Me lo aspetto In close Entro il 10 Quindi Insomma Se Binance Ci fa Questi minimi In questi giorni Va benissimo Se poi Mi dimostra Diciamo Una close Ciclica Quindi la ripartenza Vi voglio vedere La ripartenza Di Binance Al di sopra Di questa trend line Che vi ho disegnato Se così fosse E' un bellissimo segnale Anche per eventuale Ripresa del trend Di Bitcoin E ci dà un po' Di respiro E anche ci toglie Un po' Di paure Bene ragazzi Nella giornata di oggi Abbiamo visto Ethereum e Binance Ho registrato L'onedì Per martedì Perché non posso fare Due video Così importanti Diciamo all'interno Nella stessa giornata Anche perché Non sono Diciamo Per gli eccessi Di informazioni Lo sapete Però Era importante Darvi questa informazione Perché sono rilevanti Quindi è assolutamente Importante fare questo video Dobbiamo poi chiederci Come vi avevo detto Anche nel video di lunedì Cosa può succedere Se effettivamente Un scenario su Bitcoin Cambia E a quel punto Abbiamo uno scenario ABC Di lungo periodo Effettivamente Possibile Sì Difficile da realizzarsi Chiaramente Sul mercato Vedremo Insomma Andremo ad analizzare Venerdì Nel video di venerdì Questo possibile scenario E vediamo Un po' Dove potrebbe portarci Quindi andiamo ad analizzare Venerdì L'analisi Sui grafici settimanali Un'eventuale ABC Di Bitcoin Che cosa succederebbe E soprattutto Come ce ne accorgiamo Se lo fa ragazzi Questo è fondamentale Perché Se ce ne accorgiamo Andiamo via dal mercato Come vi ho detto Più volte Se vedo cambiare il trend Io sono il primo a uscire E basta È tutto qui Quindi venerdì Attentissimi A questo video Assolutamente Affascinante Che andremo a fare Un video di ipotesi Ma molto bello Affascinante Adatto a questo momento Ok vi ringrazio ragazzi E ci rivediamo In settimana Con il prossimo video Invece Sempre sull'analisi Dei mercati Vedremo quello che succederà Ma venerdì Il video scenario Catastrofico Chiamiamolo così Beh sì Ci potrebbe stare Ciao a tutti Ciao a tutti